Se si desidera modificare i diritti degli utenti in ePassan Manager, iniziare facendo clic sul pulsante Operatore Software. Selezionare quindi il gruppo di utenti che si desidera modificare. Dalla parte sinistra si ha la possibilità di modificare i diritti di visualizzazione, Modifica, Aggiunta e Cancellazione degli utenti. A questo punto è sufficiente fare clic sulle caselle accanto ai diritti che si desidera modificare e, una volta terminato, fare clic su Salva. Grazie a tutti.